Salve, siamo qui per commentare la partita valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A tra Lazio e Sassuolo, conclusosi con il risultato vincente da parte dei Bianco Celesti per 2 a 1. Le due squadre hanno fatto un'ottima gara oggi qui al stadio olimpico, dopo il Sassuolo non ha assolutamente demilitato e da quando ha iniziato il campionato la squadra di Zerbi si è resa protagonista di partite veramente di alto livello e anche oggi ha fatto un'ottima gara. La squadra di Inzaki ha avuto la meglio in rimonta dopo che la Sassuolo è andata in vantaggio al sesto con Caputo e si è resa pericolosa anche più di una volta prima delle golle con Tauri e con Djuric. La Lazio è venuta fuori piano piano che ha pareggiato le golle dell'attaccante Emiliano con Milinkovic-Savic che con una grandissima incornata di testa ha battuto consigli e la Lazio da qui in questo momento si è resa ampiamente pericolosa più di una volta andando vicino al 2 a 1. Nel secondo tempo anche qui partita diciamo abbastanza emozionante e diciamo anche equilibrata perché il Sassuolo ha avuto anche essa le sue occasioni ma la Lazio poi con una bella girata di Immobile è andata in vantaggio capovolgendo l'incontro a proprio favore. Di qui il Sassuolo con Tauri si è reso pericoloso sulla porta di Reina ma poi la Lazio nel finale della partita ha avuto anche un'altra occasione con Marusic e di nuovo con Immobile che poteva avere miglior fortuna. Una Lazio che con questo risultato di 2 a 1 si porta al settimo posto raggiungendo il Napoli e dimostrando che la squadra bianco celeste c'è e sicuramente farà un buon campionato. Vi arricchiamo anche i risultati della giornata di oggi che si è conclusa con questi risultati. Benevento Torino 2 a 2, Fiorentina batte Crotone 2 a 1, Genova batte Cagliari 1 a 0, Juventus batte Bologna 2 a 0, a Milano Atalanta batte Milan 3 a 0, passo falso da squadra rossonera in questa giornata, le altre inseguitrici non ne hanno tanto approfittato, solamente la Juventus e la Roma hanno avuto risultati favoribili. Juventus Bologna 2 a 0, Parma a Parma-Sampatoria batte Parma 2 a 0, Roma batte Spezia 4 a 3, Udinese Inter 0 a 0, Verona batte Napoli 3 a 1, scivolone della squadra di Castuso oggi qui a Verona dove la difesa partenopeia ha avuto delle grosse lacune in questo incontro. E per finire Lazio batte Cagliari 2 a 1, risultato commentato adesso. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale webstampa24. Saluti.